Nella società contemporanea la fretta, l'attività, gli affetti disordinati prevalgono sul silenzio, sul raccoglimento interiore il veleno della fretta, dell'attività frenetica rode la nostra interiorità C'è sempre più eccitazione, eccitazione questa è la tendenza della nostra epoca un altro aspetto della crisi psicologica di questa epoca è che ci stiamo dimenticando del ciò che è naturale abbiamo dimenticato l'importanza di quello che è la natura l'emozione oggi è associata con tutto quanto è artificiale con l'artificialismo l'emozione naturale invece è quella che deriva dalla contemplazione si accontenta di cose semplici lo sguardo di un bambino, dal frusciare del vento tra gli alberi dal canto di un uccello, dal ascoltare la sciabordia di un fiume di contemplare una poesia o un quadro, una bella musica una buona musica ma oggi le persone hanno bisogno di sensazioni forti per stare bene diventa più difficile emozionarsi per cose semplici si dimentica che il naturale è la cosa più bella della vita siamo freneticamente alla ricerca di continua di nuovi contatti, ma contatti virtuali immagini, informazioni che i nuovi mezzi di informazione informatici mettono a nostra disposizione siamo vittime di una specie di bulimia per le immagini digitali insomma oggi alla trasmissione televisiva la nostra sensibilità la nostra umanità è diventata tecnodipendente rischiamo di diventare insensibili alla vera bellezza della vita del mondo alle cose naturali siamo vittime di un eccesso di stimoli di scelte, di informazioni di attività come esiste un inquinamento atmosferico io credo che esista anche un inquinamento della psiche, psicologico del cuore, dello spirito della nostra vita interiore un inquinamento che mortifica e avvelena tutta la nostra esistenza la nostra vita interiore è nutrita dalla contemplazione dal silenzio dalla solitudine dalla contemplazione anche di elementi esterni l'anima si costruisce grazie alle bellezze che si incontrano intorno a noi un sentimento provato per esempio davanti a un tramonto davanti a un quadro l'ammirazione sentita davanti a un paesale una gioia condivisa con un bambino o con un partner una conversazione con una persona amata un momento di accoglimento la vita interiore si forma mediante l'accumulo di questi ricordi di momenti in cui si è data accoglienza a questi elementi della nostra esistenza anche la lettura i libri ci sostengono nella nostra vita nella solitudine nei momenti di sconforto e ci evitano di essere un peso per gli altri per noi stessi e ci accompagnano nel silenzio nella solitudine nella contemplazione invece noi viviamo in una società in cui questi elementi hanno poco spazio in cui ogni spazio ogni momento sembra debba essere riempito da iniziative da attività da suoni non c'è il tempo neppure per ascoltare per dialogare con le persone care per contemplare la natura l'universo la nostra interiorità silenzio perché forse abbiamo paura di fare silenzio fuori ma soprattutto dentro di noi la vera cura della nostra interiorità richiede una certa disciplina richiede di trovare dei momenti di silenzio ogni giorno anche tra le preoccupazioni e la nostra vita quotidiana si può trovare negli spazi di silenzio abbiamo bisogno di dare spazi al silenzio perché è nel silenzio che troviamo Dio ed è nel silenzio che scopriamo chi siamo veramente silenzio e solitudine quiete sono altrettante vie per penetrare in quella profondità che viene chiamata anima e sono premesse perché l'incontro umano si faccia veramente comunicazione profonda condivisione di vita sensibilità e delicatezza condivisione di sicurezza e